di un'effettiva fase 2 sono diversi gli spunti per la ripartenza completa dell'economia. L'imprenditore Enrico Loccioni lancia una proposta per le aree interne. Francesco Tomei. Già in crisi prima del coronavirus, colpite dal sisma e dalla deindustrializzazione, le aree interne rischiano un nuovo pesantissimo impatto, con inevitabile impulso a un ulteriore spopolamento e all'invecchiamento demografico. Da queste premesse nasce una proposta che arriva dal mondo dell'impresa, a tirare qui insediamenti produttivi dal nord per valorizzare competenze giovani e formate, portare dunque qui il lavoro anziché esportare capitale umano con l'emigrazione. Comuni che sono sotto i 3.000 abitanti, fino a 3.000 abitanti o fino a 5.000, che naturalmente possono in qualche modo essere attrattivi come paesaggi, come borghi, non solo per il turismo, che pure è stato fatto un gran bel lavoro, ma possono essere attrattivi per delle nuove attività che magari vengono svolte nelle periferie urbane, nelle periferie limitrofe. Se la Loccioni non ha mai chiuso in quanto parte di filiere strategiche come quella aerospaziale, altri settori si stanno ancora interrogando su come ripartire. Serve coraggio, dice l'imprenditore marchigiano. E' proprio questo momento di rilanciarsi con entusiasmo e fare in modo che anche l'entusiasmo diventi contagioso. Certo non c'è da essere molto entusiasti, però riprendere il lavoro e non rimanere chiuso in casa, anche questo è un modo per continuare la vita e cercare di convivere con una situazione che sicuramente gli strumenti per poterla gestire, per poterla in qualche modo controllare, oggi ce ne abbiamo molti più di quanti non ne sapevamo tre mesi fa. Grazie.